E ora andiamo in Cina e ascoltiamo Carlo Dragonetti, un ragazzo originario di Trani che adesso vive a Shanghai e che ci racconta come il paese ha vissuto l'emergenza e soprattutto come sta vivendo il post pandemia. Sentite. Carlo è in Cina in questo momento e ci racconterà qual è la situazione di rinascita e di sblocco dopo il lockdown che lì si sta vivendo, essendo appunto stata la Cina l'epicentro dello scoppio della pandemia. In questi giorni si sta vivendo innanzitutto una ripresa, quindi questo è da sottolineare. Dopo che la Cina è stata in lockdown, è stata chiusa per quasi due mesi, per 56 giorni, 56 giorni nei quali i cittadini cinesi non potevano uscire di casa se non una volta alla settimana e uno solo per famiglia, per nucleo familiare. Quindi, come dire, proprio perché nel corso delle ultime settimane i casi sono andati a diminuire fino a poi a essere zero, il governo cinese ha deciso di prendere le misure e di mettere in atto le misure difensive. Naturalmente in Cina il lockdown ha avuto una durata, come hai detto tu, di quasi due mesi perché le misure restrittive erano molto più stringenti di quelle adottate anche in Italia o comunque in Europa in generale, perché ricordiamoci che in Europa le nazioni stanno adottando contempistiche diverse, provvedimenti diversi. Le misure restrittive che sono state imposte ai cittadini sono state simili a quelle che i nostri governi stanno mettendo in atto. I nostri governi, in realtà, sottolineerei lo sforzo che il governo italiano sta facendo e ha iniziato a fare prima di tutti gli altri governi, sottolineando ancora una volta il valore aggiunto di essere italiani ed essere la patria dell'umanesimo, e quindi patria in cui l'uomo è al centro della società prima ancora dell'economia. Dall'altro lato è chiaro che è chiesto a tutti i cittadini di mettere, come dire, di far vedere una volta per tutte che siamo un popolo dotato di senso civico e di rispetto delle regole, perché poi il punto fondamentale è quello, non è solo restare a casa, ma sì, tanto esco solo a fare la spesa, oppure ma sì, tanto esco solo a fare 200 metri di footing intorno al palazzo, no. Il punto fondamentale è evitare il contatto con le altre persone. Ma pensi che la difficoltà nel mettere in atto queste regole e queste restrizioni deriva anche dal fatto che si parla di due società culturalmente diverse? Credo che la Cina e l'Italia in realtà, sebbene un po' da due popoli molto distanti, condividano molto. Abbiamo in comune il valore della famiglia, abbiamo in comune il valore dello stare insieme, del mangiare insieme, del condividere. Siamo entrambi due popoli pessimi a fare le file, abbiamo tantissime cose in comune. Tuttavia quello che mi spaventa particolarmente in questi giorni è il sottolineare come un regime politico cinese che favorisca i cittadini a seguire le regole, mentre noi che siamo la patria della democrazia abbiamo molta fatica, facciamo molta fatica a seguire le regole. Vuol dire che noi vivendo in democrazia ci autogiustifichiamo a non seguire le regole? Secondo me dobbiamo fare tanta attenzione su questo. Carlo ci puoi spiegare e raccontare quanto questi mesi di lockdown stiano e influenzando e abbiano influenzato l'economia del paese, l'economia della Cina, ma anche quanto abbiano influenzato la socialità del paese? Dal punto di vista economico questo è chiaro. Come dire, quello che sta succedendo in Italia oggi è quello che è successo in Cina due mesi fa. Cioè dire, il mondo retail offline è sicuramente quello che sta avendo i problemi, ha subito i problemi principali. Dall'altro lato l'ecosistema Cina, per ecosistema intendo tutto quello che è la struttura sociale di questo paese, ha fatto sì in questi anni di sviluppare anche quello che è il commercio online. Questo ha comunque da un certo punto di vista influito e ha dato la possibilità a tante persone di continuare a fare business, anche se da casa. Dal punto di vista della socialità credo sia opportuno sottolineare come sicuramente il popolo cinese abbia un tipo di dimostrazione di calore diverso dal nostro. Tuttavia è chiaro che qui, per esempio, il discorso mascherina era qualcosa che la cultura da un certo punto di vista imponeva già. Quindi ho il raffreddore, metto la mascherina. È una cosa normale proprio per proteggere l'altro in senso di rispetto all'altro. Quindi questa è una cosa secondo me importante da sottolineare. Quello che vedo però oggi è chiaramente, anche a quarantena finita, un popolo che tutti i giorni, dalla mattina alla sera, va in giro con la mascherina. Ti faccio un'ultima domanda che forse è anche quella più interessante, più importante per noi italiani. Come sta avvenendo lì in Cina la ripresa? Le tempistiche? Che cosa sta riaprendo? Quali libertà si stanno dando? Quali sono i primi ritorni alla normalità? Perché quello che dobbiamo cercare di far capire è che finita la quarantena e il lockdown, la ripresa e le riaperture non saranno immediate e comuni a tutti i settori, naturalmente. Immagino che la ripresa sarà graduale. E qui, ancora oggi, sebbene già da due o tre settimane, si è ritornati ad una pseudo vita regolare, quindi con locali aperti, con centri commerciali aperti, eccetera, In ogni punto, in ogni esercizio al pubblico, prima di entrare, c'è un addetto che ti misura la temperatura e lo fa con un termoscanner. Perché ti sparano, avete visto magari le immagini, ti sparano, prendono la temperatura corporea dal polso, piuttosto che dalla gola, eccetera. Lo fanno per capire e per continuare questo livello di prevenzione. Questo è molto importante a dire proprio per quello che sottolineavi tu. Cioè la ripresa sarà graduale, per dire al cinema si può andare sì, ma lo si può fare solo con due posti di distanza agli altri, con una fila davanti e una fila dietro ancora libera. In palestra si può andare sì, ma con un numero tot di persone che possono entrare, preso il nome e il cognome, il numero di passaporto, il numero di carte d'identità, anche in cui fosse un cittadino cinese, e il numero di telefono. Proprio per cercare di fare a monte un lavoro che invece sarebbe più difficile da fare a valle, quindi quello del ritrovare le possibili persone che sono state infettate da qualcuno che magari nell'arco del tempo si scopre essere nuovamente un infetto. Ora, proporre all'Europa di mettere in discussione il trattato di Schengen, e quindi la libera circolazione delle persone, probabilmente sarà veramente difficile, ma in un momento in cui tante nazioni europee diverse stanno mettendo in pratica tanti stili.